Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un dominio fin qui assoluto In questo match siamo ancora nella prima parte di gara A metri a disposizione Non è finita Ma che gol ha fatto? Non è finita A metri a disposizione Non è finita Non è finita Non è finita Non è finita